E continua così il nostro viaggio per accogliere voci, testimonianze e appelli dei lavoratori del mondo dello spettacolo che in questi momenti, in questi giorni così particolari, stanno affrontando delle grosse difficoltà. Oggi abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il direttore del Teatro Lendi di Sant'Arpino, Francesco Scarano. Ben ritrovato dunque Francesco Scarano, un direttore artistico giovanissimo del Teatro Lendi. Prima di tutto ti chiediamo come stai, come stai affrontando questi giorni e qual è lo stato attuale del tuo teatro. Sicuramente ho più tempo e sto dando tanto spazio alla mia famiglia, ai miei figli, cosa che già facevo ma ovviamente limitata ai grossi impegni che mi prendevano nel quotidiano. Questa situazione assurda che ha travolto tutto il pianeta non ci consente di programmare, di fare quello che normalmente si faceva per il teatro soprattutto poi in questo periodo dove era il momento clou della preparazione alla stagione successiva e quindi non essendoci manco una data certa di riapertura e soprattutto con quali modalità ancora non sono ovviamente state descritte non si possono fare grandi programmi, grandi progetti. Si discute su tantissime cose, anche sugli artisti che potranno far parte della prossima stagione teatrale. Il problema è che quando partirà questa stagione teatrale. E quando forse è quello che ci stiamo chiedendo tutti. Però mi verrebbe da chiederti cosa ne pensi dei social che in questo momento stanno comunque dando una mano e stanno permettendo ad artisti, teatri di poter aprire i propri palcoscenici spesso dando una fruizione anche gratuita dei contenuti al pubblico da casa. Oggi sono un ottimo diversivo perché per chi è ovviamente obbligato a stare a casa meglio di niente direi ma per me l'unico modo per fare spettacolo nei piccoli e nei grandi spazi a partire dai teatri da cento posti alle strutture da centomila persone l'unico modo è quello di farlo live. Quindi per me il teatro senza rapporto con il resto del pubblico e con l'artista non ha motivo di esserci e quindi tutte le varie ipotesi alternative di teatro virtuale diciamo così sono solo ed esclusivamente delle aggiunte o delle alternative a questo momento ma non possono essere poi la normalità. È comunque una visione positiva no? Cioè tu credi che comunque non ci sarà un impatto negativo? Quando tutto sarà finito il pubblico avrà forse ancora più voglia di trovarsi realmente sotto a un palcoscenico? Sì, usciremo fuori da questa cosa e immagino che ci sarà ancora più voglia di andare al teatro e forse tutto questo lavoro fatto sul web sarà una sorta di motivo per incoraggiare ancora di più il pubblico poi ad andare però dal vivo a vedere i concerti, gli spettacoli. Ed ora quindi tocchiamo un tasto un po' più dolente. Il decreto Cura Italia, successivi di PCM, quelli che sono stati poi i provvedimenti presi a tutela appunto dei lavoratori autonomi così come dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Credi che i provvedimenti presi siano appunto stati bastevoli, siano stati sufficienti, c'era da fare di più? Cosa chiederesti da direttore artistico di un teatro non solo per te ma anche per tutto il personale che gira e che lavora intorno e all'interno di un teatro? Il governo ad oggi non ha previsto misure per tutti quelli che lavorano appunto nel campo del teatro o dello spettacolo in generale ed ecco perché c'è un altro grosso problema riguardo il teatro o lo spettacolo che può essere offerto dal web o dalla televisione. Attorno al teatro lavora tantissima manovalanza a partire dai macchinisti, elettricisti, facchini. L' lista è veramente lunga e se non ci sono le repliche queste persone non lavorano e seppure si organizza uno spettacolo che poi va in replica sul web o in televisione o quello spettacolo sarà messo in scena una sola volta perché poi verrà registrato e replicato. Quindi queste persone lavoreranno una volta al mese, una volta all'anno. È assurdo. Quindi fino alla riapertura io penso che lo Stato debba intervenire per aiutare concretamente tutti questi che sono lavoratori occasionali. Il campo del teatro è pieno di lavoratori occasionali che lavorano per tot giorni, mesi all'anno e che per tutto il resto dell'anno sono fermi. Quindi lo Stato deve pensare necessariamente a questo. Loro sono alla base dello spettacolo italiano. Poi sulla punta dell'iceberg ci sono i primi attori, le superstar e anche poi tutti quelli che fanno le produzioni o gestiscono strutture come la mia o anche più grosse. Una situazione come tu stesso dici veramente complicata. Ma ci sarebbero dei suggerimenti, delle idee, delle carte da mettere in tavola per poter non solo tutelarvi in questo periodo così complicato ma anche poi per prevedere una ripartenza quanto prima possibile e nel migliore dei modi possibile. Ma anche soltanto considerando le spese che ci sono per poi ripartire senza essersi indebitati troppo. Quindi ben venga anche il prestito con tassi bassissimi eccetera ma affiancato da aiuti comunque in aggiunta a tutto ciò. La ripartenza si otterrà grazie soprattutto al fatto che si troverà un vaccino. Quindi riuscire a trovare un vaccino è l'unica secondo me soluzione a questo problema perché la gente così si tranquillizzerà e ritornerà alla vita normale e quindi si potrà rifare teatro. Sembra una cosa banale ma è l'unica soluzione fattibile. E noi dunque lanciamo questo appello affinché speriamo veniate tutelati nel migliore dei modi e si possa ripartire anche nel modo migliore possibile ma avviandoci verso la fine mi piacerebbe come sempre smorzare un pochino i toni e quindi ti chiederei in questi giorni abbiamo tutti più tempo quindi possiamo dedicarci alla lettura di un libro non solo quindi alla visione di uno spettacolo teatrale di una serie televisiva, di un film, qualsiasi cosa. Vogliamo sapere cosa guarda il direttore Francesco Scalano a casa? Se c'è un libro che hai riletto, se ci sono delle serie televisive che vorresti proporre ai nostri telespettatori? Ne ho seguiti alcune in questo momento e ho riletto La storia infinita che era un libro che ho letto da adolescente e l'ho fatto anche perché è un libro fantastico e quindi li fa volare con la fantasia è un momento in cui sognare è probabilmente fondamentale perché i sogni, diciamo, abbenzina il carburante per poter poi fare, programmare dopo qualsiasi momento di pausa in questo caso forzata. Come serie tv una di quelle che è più apprezzato The Man in the High Castle che è l'uomo nell'alto castello che in pratica racconta di come sarebbe andato la storia del nostro pianeta se invece di vincere gli Stati Uniti la Seconda Guerra Mondiale l'avessero vinta le forze del Terzo Reich quindi una Germania che padroneggia sul pianeta con tanti flashback un altro, diciamo, una serie che racconta l'impossibile quindi che ti fa più che altro nel genere fantasy e un'altra invece che è molto molto bella eppure la consiglio è This Is Us la storia di tre gemelli che da quando erano bambini a quando diventano poi adulti le vivono un po' di tutti i colori. Io ti ringrazio personalmente anche per questi consigli perché una delle due serie TV che hai citato ricordo che me l'avevano già suggerita in passato quindi colgo la palla al balzo anche io. E dunque grazie Francesco Scarano direttore artistico del Teatro Lendi di Sant'Arpino grazie per il tuo intervento per il tuo appello e le tue parole e ci lasciamo veramente con la speranza di poterci rivedere quanto prima realmente, fisicamente, tutti a teatro. Io vi saluto e dico che dobbiamo stringere i denti ognuno nel suo ruolo sperando e avendo anche fiducia in chi ci governa perché sono loro che devono attuare eventualmente delle strategie per farci vivere economicamente più serenamente questo periodo e vi aspetto a teatro. Grazie.